Atleti, federazioni sportive, cittadini appassionati di sport, nello stand della città metropolitana di Torino al Salone del Libro per parlare del grande appuntamento estivo con gli European Master Games Torino 2019 che vedranno il capoluogo subalpino e altre 12 realtà del territorio metropolitano, protagoniste con 32 sport e 167 specialità di grande spessore. Il vice sindaco della città metropolitana e i vertici del comitato organizzatore hanno raccontato il dietro le quinte dell'evento internazionale, interessanti le testimonianze di atleti e organizzatori delle gare. Dobbiamo dare esempio ai nostri ragazzi giovani che a certa età si può continuare a fare attività fisica, si può fare risultati e poi vedere amici, vedere amici sportivi poi in campo di gara e continuando a fare lo sport in certo livello. Perciò serve semplicemente come esempio, quindi io vorrei dire che il nostro dovere è proprio fare un esempio ai nostri ragazzi giovani e continuare a fare lo sport, non solo in età giovanile, anche in età adulta. Per noi sono molto importanti i master in quanto la nostra è una disciplina molto longeva e quindi è importante anche perché poi chi vi partecipa della nostra federazione, quindi italiani, portano poi a casa anche l'esperienza e quindi sicuramente per noi è molto importante.